adesso ufficiale oresti che ho avuto torna nella rosa della tretinovoli anzi per te un debutto in prima squadra sei cresciuto in questo settore giovanile comunque una grande soddisfazione tornare qua si diciamo che sempre è stato il mio sogno tornare qui a trento perché comunque con trento abbiamo vinto cinque scudetti giovanili è stato un bellissimo percorso e questo comunque sta testimoniare il fatto che la crescita che c'è stata nel settore giovanile e poi sono fatto esperienza due anni fuori in a due ecco ora mi sento pronto per tornare qui e dare una mano a questa società e alla squadra il prossimo anno nelle ultime due stagioni di serie 2 tanta esperienza come dicevi tu ma anche qualche valore assoluto sei stato il miglior under 23 del campionato e in tanti casi anche il miglior marcatore della tua squadra prima porto potenza picene poi bergamo insomma è stata un'esperienza molto formativa si è stata un'esperienza bellissima auto un allenatore che che mi ha seguito che comunque ha lavorato per farmi migliorare tecnicamente e gianluca graziosi che ringrazio sono state due anni diversi ma due anni bellissimi per me sono stato in campo ho maturato tanta esperienza e quindi sono contento e ora torno qui a trento con esperienza in più e con l'opportunità di aver già conosciuto col vantaggio aver già conosciuto angelo lorenzetti negli ultimi settimane ti sei allenato ai suoi ordini come li ha trovato soprattutto cosa ti chiede che ti chiederà in funzione della prossima stagione ma con angelo per ora mi sono trovato bene mi sta aiutando a migliorare degli aspetti tecnici che su cui devo lavorare niente lui mi ha chiesto di dare una mano alla squadra e di mettermi in gioco di mettermi in mostra per per raggiungere un livello più alto possibile di gioco sia personale che con la squadra ritroverai anche in squadra gente che conosci bene tra tutti simone giannelli con cui hai vinto tanti scudetti a livello giovane vi siete sicuramente già parlati sì sì siamo parlati e siamo già sfidati via telefono perché lui ora è via con la nazionale per me è un è un piacere di trovare un grande giocatore come lui lui è cresciuto tantissimo e quindi non vedo l'ora di ritrovarlo in campo per allenarmi insieme a lui e per ecco sfidarlo e metterla anche un po sul sulla sulla sfida e sul sul gioco originario abruzzese sei arrivato però a trento giovanissimo a 14 anni è un po il sogno di tutti i giocatori riuscire a coronare la propria trafila del settore giovanile arrivando in prima squadra per te è un punto però di partenza sì assolutamente detto benissimo per me è un punto di partenza anche perché il primo anno in super lega ecco cercherò di apprendere il più possibile da da angelo dai compagni che sono sicuramente più esperti e prenderò tutto quello di positivo che verrà per per maturare sempre più esperienze per dare una mano a questa squadra anche in campo